Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Traffico al momento regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana. Possibile presenza di vento forte nella zona meridionale della strada stradale Aurelia. Sul raccordo autostradale sia la Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza di viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Pogibonsi e Tavarnelle. Possibili disagi anche tra San Casciano e l'allaccio con la A1, Firenze e Impluneta. Per un guasto tra Empoli e Firenze Rifredi alcuni treni della tratta potranno subire ritardi. Si segnalano in particolare 18 minuti di ritardo per il treno 4011 Firenze-Santa Maria Novella-Livorno. Arrivo previsto per le 8.30. Avranno inizio lunedì 17 aprile a Firenze i lavori di asfaltatura in via Santa Maria a Marignolle. Fino al 20 aprile sarà chiuso il tratto da via Ugo Foscolo a via Piana. Nuoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!